C'è da fare immediatamente una premessa, così io me ne lavo le mani, non accetto critiche, solo consigli. E la premessa è che, tra l'altro raccontavo dove rispondevo a certe domande, le domande che mi fate più spesso, dove tra l'altro avevo sempre questa maglietta che sembrerebbe essere sporca di ciclo, il mio ciclo. La premessa è che non sono un appassionato di anime, quindi non ne conosco così tanti. Anzi, non ho visti veramente pochi, confronto a quanti film ho visto, confronto a quanti giochi ho giocato, non è il mio medium preferito per quale dedico del tempo. Però, perché dico che accetto consigli? Perché una volta che magari vi spiego qual è il mio genere di anime, magari riuscite anche a consigliarmi l'anime più adatto. Vi faccio subito capire che a me non piacciono gli anime dove c'è il classico protagonista alla Fairy Tail, alla My Hero Academia. Preferisco sì certi shonen, anche perché sono un ragazzo eternamente piccolo, ma no, ma che se per me non ha senso in realtà, perché mi sto autocontradicendo da solo, vi spiegherò il perché. Allora, facciamo una lista. Chiaramente non farò spoiler, nel caso magari non avete visto certi anime, parlerò a lungo, in maniera generale, finché non vi rovino nulla, e quindi partirei. Decima posizione per Bleach. Bleach mi è piaciuto fino a un certo punto. Quando tutti erano dei shirigami mi ha rotto le palle, non mi è piaciuto per come è continuato, non ho continuato il manga, so che va avanti oltre l'anime, però l'ho trovato Boo sempre, lui che arriva nel momento giusto alla fine, molto cliché. Poi Ichi, quel protagonista, non mi fa particolarmente impazzire, personaggi nemmeno, tipo c'era quello tizio lì, mulatto, veramente stato un cazzo, un stupido, un tronco di me, non lo so. Mi è piaciuta la soul society, sì, mi è piaciuta l'idea della spada con l'anima, sì. Chiedetemi, non sono spoiler, è decontestualizzato così, non sono spoiler. Però Bleach, M.M.O.C., è caduto nel tempo. E ovviamente l'ho preciso adesso, ovvio, dovevo farlo forse all'inizio, e non sentite offesi, è gusto solo, unico, personale. Voi vi offendereste se non mangio la pasta col tonno, magari la vostra pasta del preferito, ma non vi offendereste. Ok, non offendetevi manco questo caso, perché è il mio gusto. Andiamo a posizione per Naruto. Naruto, al contenuto di quello che dicono tutti, mi è piaciuto più Shippudder, fino a un certo punto, che la prima versione. Perché la prima versione Naruto mi sembrava un caga, che cazzi stava sempre a liamentarsi. Oh, raga, sono l'unica persona al mondo in cui dice questa cosa. E ricordo che io sono l'unica persona a cui piace Dark Souls 2, anche più del 3, per dire. Vabbè, sono pazzo io, evidentemente, non lo odiatemi, vi prego. Non voglio morire per questo, ucciso da voi. Però è il mio gusto personale, di certo non mi vendo per dei click facili, dicendo no, beh, sai, Naruto, come dicono tutti, perché sai, chi lo dice è uno che ne capisce, quindi devo dirlo anch'io. No, Naruto, il primo Naruto, mi piace molto meno. Confronto lo Shippudder, che l'ho trovato più di azione, mi piaceva la Katsuki, mi sono piaciute tante cosette. In certi momenti l'ho trovato ridicoli. Arrivo. Però, mediamente, due cose. L'evidenziatore è l'armada aperta. Mi volete bene anche per questo, vero? Perché mi piace Naruto? Per i flashback? Ma no. Per il concetto odio, amore, odio, amore. No. Mi piace perché in certi momenti è emozionato. Solo è emozionato. E i momenti in cui mi è emozionato sono principalmente quelli di Shippuden. Non mi dico quali, ma in certi momenti c'è pure pianto. Otto, Erased. Erased mi è piaciuto, però ha una sola motivazione. È un po' misteriosino. È un po' cupo. È un po' mindfuck in certi punti. Dura poco, va bene. L'ho finito in due giorni, credo. Bella anche l'opening, se può valere. Forse no. Finale apprezzato. Col plot twist giusto, anche se un po' si capiva. Erased. Erased. Conan. Conan è uno di quegli anime che ho visto da piccolo, che pensavo fosse molto più stupido di quello che poi da grande ho recuperato, soprattutto in lingua originale, perché sembra che in italiano lo perda. Sembra molto da bambino italiano, per i termini che usano per il doppiaggio. Non sono uno di quelli che dicono. L'anime va visto in lingua originale. Perché? 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 Non sono un weeabo del cazzo. Ma Conan, in lingua originale, mi dà quella sensazione un po' più di maturità, perché poi, tra i termini stramaturi, è solo che Conan, perché? Non si becca in una posizione così alta, nonostante adori ogni caso e continui a seguirlo. Ma perché so già come andrà a finire ogni caso? Mi interessa, sì. C'è la motivazione perché non l'ho messo manco Jojo? Mi interessa, sì. Vi spiego perché Jojo. Ve lo spiego forse come extra alla fine. Conan riuscirà a capire chi è il cattivo. Ogni tanto si può aiutare da qualche tizio. L'organizzazione che l'ha trasformato si va sempre più avanti, ma quello non è manco il fulcro principale. Non vuole esserlo. Ma i casi sono belli. E certi sono veramente inquietanti. Hanno un mood incredibile. Quindi l'apprezzo. È uno di quegli anime che sono top da guardare mentre fuori piove. Stessa posizione per One Piece. One Piece è totalmente odio e amore. Perché One Piece è l'anime più annacquato che abbiamo visto. Ci sono episodi in cui Rufy... Ma me ne ricordo uno in particolare che ho detto, no, ho bisogno di una cura, di farmi seguire. Mi ricordo un episodio. Senza fare spoiler. Rufy che combatte contro se stesso in una foresta per non so quanto tempo. Io... Già c'erano momenti in cui veramente... È inacquatissimo. So che il manga non è così, ma l'anime. Io parlo solo dell'anime. E il guai a voi è dirvi No, perché tu non metti seguire il manga? Non l'anime. Come si chiama il video? Anime preferiti. E parlerò di anime. Death Note. Quinta posizione. Death Note. Calmi. Sono d'accordo. A un certo punto Death Note si rovina. Punto. Ma la parte iniziale mi piace sempre. È da guardo volentieri. Bello Death Note. Apprezzatissimo. Tuttora, quando mi capita di riguardare, mi piace. Poi a un certo punto schippo quasi tutto. Quarta posizione. Allora. Questa posizione sarebbe prima. Però sono ormai un nuovo adulto. Non è vero. Ma col tempo non mi ha più tenuto incollato come un tempo. E non è questione di età. Perché? Parlo di Dragon Ball. Quando ho rivisto Dragon Ball Z un anno fa tutto da capo, mi ha di nuovo appassionato. Cosa che è super, ma è riuscito a fare solamente in pochissime occasioni. Ma Dragon Ball è l'anime. Adesso dovrebbe uscire. Adesso. Si va per dire. Xenoblade. Xenoblade. Budoket in Kashi 4 e... Sono veramente felice. Come quando mi ha detto che non ero incinta. Intendo mia figlia. Di me. Però Dragon Ball, ragazzi, che devo dire? L'avete visto tutti? Dai. Che devo dire di Dragon Ball? È tamarro al punto giusto. È incredibile. Non ha troppe pretese. Non fa discorsi inutili. Certo, una delle cose che ho detto di più è Trunks. Madonna, quanto l'odio Trunks. Nel futuro. Terza posizione. Full Metal Alchemist Brotherhood. Ho visto il Brotherhood. Dicono che sia più fedele al manga, da quanto ho capito. Quindi ha il senso più dell'opera originale. E Monster Hunter è appunto giusto. Tematiche molto carine. Quella della madre, per chi sa, sa. Il padre verso la fine, chi sa, sa. Oddio, forse se lo dico mi censano nel video. Vabbè. I peccati capitali. Tutto. Tutto. Molto carino. Credo che qualsiasi cosa dica di Full Metal Alchemist sia veramente uno spoiler. Però l'ho apprezzato. Non dirò mai così tanto. E mi ha fatto anche ridere al punto giusto. Ecco, anime che qua trovo molto comici sono sicuramente. Full Metal Alchemist, sia comici che profondi, è One Piece. All'incirca è la stessa maniera. One Piece mi fa schiatterare le risate. E quando devi farmi piangere ci riesce perfettamente come Full Metal Alchemist. Seconda posizione, questa devo spiegarla. GTO. GTO. È l'anime che trovo più stimolante sotto il livello di... Ho voglia di vivere. Quando io lo guardo, quando l'ho guardato avevo voglia di vivere. Di sorridere. Pensavo quanta cazzo è bella la vita. Greve la vita, sì ma bella. E GTO mi dà questa sensazione qui. Mi piace il protagonista, un izuka. Fa ridere al punto giusto, è cattivo nel punto giusto, fa le critiche nel momento giusto. Mi piace. Peccato che l'anime non finisce praticamente, c'è una fine che non ha senso. Poi lo recuperate nel manga, questo caso è eccezionale, dovete permettermelo. E l'ho apprezzato molto di più. È il primo posto. Come non potrebbe esserci lui. Vi dico solamente una cosa. Trama. Mi è piaciuto un sacco. Shingeki. No Kyojin. Credo che sia l'anime più figo che abbia mai visto. Ma che dico l'anime? Uno dei prodotti più fighi multimediali che abbia visto. L'attacco dei giganti al solo difetto che parte per me malissimo. E ci sono delle puntate, delle saghe che potevano essere più brevi di almeno qualche episodio. Ma è stata la prima volta che mi sono letto il manga. Ragazzi mi fa cacare leggere. Non leggerei manco la tomba di mia madre. Ma è stata l'unica volta in cui l'anime dovevo aspettare che uscisse la quarta stagione e mi sono finito il manga. Cioè, mi sono finito il manga. Mi sono continuato il manga fino a quando non è finito, molto prima dell'anime chiaramente. E l'ho trovato perfetto. In tutto. Possiamo discuterne. Che cosa ho qui? Anche sotto i commenti. Ma vi lascio solamente con una frase. Erwin. Ed Eren. Mikasa. Armin. Levi. Normi per normi. Tutti i normi mi piace Levi. Stiamo d'accordo. Se ti piace Levi fatti una domanda. Kenny. E potrei continuare così. Vabbè. Sembro pazzo. Comunque ricordo che è uscito il mio MMO. Enne. Primo commento. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa lista. Ditemi anche qualche anime consigliato. Io vi ringrazio per la visual. Ed si saluta. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Ehi. Ciao. Ti consiglio di guardare... D'altro video. Fallo. Grazie a tutti.